Quali sono gli obiettivi di questo referendum? Beh, dell'alta democrazia, cioè ovvero di dare l'opportunità a tutti i Veneti di esprimersi. E direi che questo è positivo. Poi si esprimano a favore dell'indipendenza o contro l'indipendenza, ma questo è un segnale di alta democrazia. Ed è bene che si ponga la parola fine a questa diatriba. Che risultati vi attendete? Ma guardi, io non direi che in questa fase il risultato maggiore sarebbe quello di raccogliere un sacco di partecipazione, che sia positiva o negativa nelle firme, ma che ci sia partecipazione. E che questa partecipazione sia di stimolo al Consiglio regionale per poter riportare la famosa proposta di legge 342 in Consiglio e votarla. Il che significa poi iniziare un iter per un eventuale referendum. In conferenza stampa dicevate che non è un referendum solo della Lega. No, guardi, i moduli non sono griffati con stemmi di partito. Direi che tutti i partiti, tutte le realtà, tutte le associazioni, tutti coloro che vogliono questo referendum possono tranquillamente entrare nel network che già ad oggi ha più di 300 gazebo, quindi 300 piazze in Veneto, per dare il proprio contributo e per accogliere firme. In molti dicono che questo referendum troviamo sia un po' tardivo. La Lega doveva scegliere momenti più migliori, dove avrà più consenso. La verità è che noi abbiamo sostenuto e sosteniamo un progetto di legge che è in Consiglio regionale, perché lì si fanno le leggi e lì serve la legge per indire il referendum. Il fatto che oggi si faccia una raccolta di firme non è tardiva, è la raccolta di firme che sollecita l'approvazione in Consiglio regionale, sapendo che la Lega, come alcune altre realtà, sostiene questo referendum. Qual è il motivo per cui è ancora bloccato in questa Commissione? La proposta di legge per indire il referendum è una proposta di legge che è stata rinviata dal Consiglio in Commissione. La Commissione sta analizzando, rispettiamo il lavoro della Commissione, qualora torni in Consiglio noi siamo pronti per votarla come lo eravamo la volta precedente. Sono una ventina di voti da Lega, più altri voti da altre formazioni politiche, ma bisogna, ripeto, raggiungere la maggioranza perché i consiglieri sono 60, i venti da Lega più poche altre unità non fa 31 ma è sotto 30. Il 33% di intervistati in un sondaggio recente è a favore dell'indipendenza, questo dà coraggio e forza a queste iniziative? Ma sì, direi che è anche un po' il grido d'allarme di un territorio. Immagino che molti si avvicinino all'indipendenza perché non vedono più una luce in fondo al tunnel, diciamolo fino in fondo, del resto è una Costituzione repubblicana del 1948 che nasce autenticamente federalista, in audio diceva ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che ci spetta, poi questa Costituzione è gestita in maniera centralista. I territori non hanno più risorse, i territori non possono più decidere, i territori vengono depredati, il Veneto versa 21 miliardi di tasse all'anno a Roma e poi i Veneti non trovano lavoro e la gente non riesce più a sfamarsi. Un Veneto martoriato ultimamente dagli allagamenti e dalla neve. A Roma avete fatto valere le vostre? Ed è suicida. Beh sì, è un Veneto che in molta difficoltà, ne ho parlato anche con il Presidente del Consiglio perché ormai tale è Renzi, al quale ho presentato le istanze dei Veneti, le istanze sul fronte del lavoro, la disoccupazione giovanile, i tanti contenziosi collettivi, la necessità di provvedere alla tutela dal dissesto idrogeologico. Tutti i temi che comunque noi non abbiamo dimenticato. Presenteremo anche al nuovo Presidente del Consiglio i nostri dossier e le richieste di ovviamente finanziamento.